La giornata di mobilitazione nazionale lanciata da DL e Sicobas, ci siamo ripresi il diritto allo sciopero. Abbiamo scioperato con cartelli, manifesti, striscioni davanti agli uffici del magazzino rispettando le distanze di sicurezza con mascherine e guanti, ma ci siamo ripresi un diritto che in queste settimane era negato con la scusa degli assembramenti. Non si capiva infatti come mai è possibile lavorare dentro al magazzino a contatto, ma all'esterno uno spot for shop. Oggi ce lo siamo ripresi. Ce lo siamo ripresi sia per rivendicare che gli ammortizzatori sociali, le casse integrazioni vengano immediatamente pagate e non tra qualche mese, come c'è il rischio concreto che avvenga. Lo vogliamo anche perché la sicurezza e la salute devono essere rispettati e vogliamo che ci vengano fatti investimenti per la sanità pubblica. Ragazzi è bello rivederci. Sono tanti mesi che non ci possiamo vedere. Finalmente possiamo rivederti in faccia e non solo tramite i messaggi. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.